D'altronde il lucchetto che era stato messo, tu l'avevi detto, esperto fabbro, avevi subito capito che il lucchetto che avevano messo qui all'ex caserma Cadorna per chiudere questo varco di questo edificio abbandonato all'interno del quale ricorderete avevamo trovato una sorta di privé dello spaccio, c'era tutto l'occorrente per farsi le dosi qui nel parcheggio appunto dell'ex Cadorna, poi dopo il nostro servizio che insomma aveva generato una serie di reazioni anche stupefatte che in pieno centro di Arezzo accadesse questo, qualcuno del comune è intervenuto, era stato messo un lucchetto e adesso è stato di nuovo il lucchetto è stato divelto, c'è anche un masso con un filo di ferro. L'attrezzatura necessaria per aver sfondato la porta Hanno sfondato la porta e quindi sono rientrati dentro, tra l'altro come dimostrano le immagini del nostro Fabio Bianchini che è tornato all'interno, hanno fatto una gran bagavonda ancora più di quella che c'era prima e siamo da capo un'altra volta. Ma come fanno poi a entrarci? Veramente è una cosa indicibile dover stare in un ambiente del genere, oggi che siamo nel 2000 e passa, che si possa drogarsi ancora in un ambiente del genere è veramente una cosa vergognosa di chi vuole sapere, prendersi qualsiasi malattia oltre... Sì perché dentro lo sporco è ovviamente... È indicibile Evidentemente forse qualcuno anche... Se l'amministrazione pensava di risolvere il problema con un lucchettino, come dissi io l'altra volta, si sbagliava normalmente, infatti è bastato un po' un masso per spaccare completamente la porta, il lucchetto c'è integro, ho visto, e rientrare dentro e fare quello che si faceva prima. Dentro non è stato fatto niente, peggio di prima, quindi boh, se risolveva poi il problema con un lucchettino era troppo facile. Però significa che insomma qualcuno ci tiene proprio a entrare dentro, a fare qualche... non solo forse a trovare... Ma qui è comodo, magari le dosi vengono trovate qui intorno. Sì, addirittura abbiamo letto sui social network che lo spaccio addirittura avviene proprio qui, in pieno giorno. Quindi uno tranquillamente compra fuori, in pieno giorno, poi viene qua, non visto da nessuno, in questo veramente tugurio, un letamaio, si fa subito la dose così almeno può fare quello che vuole e poi tranquillamente fuori. Siamo in un luogo centralissimo perché il parcheggio è più frequentato, però allo stesso tempo è ripagato, è un posto riservato, ha di fuori i dock indiscreti. Sì, hanno aperto anche le finestre, insomma... Un po' d'aria, un po' d'aria giustamente... Un po' d'aria, un po' d'aria, un po' d'aria e adesso hanno arreggiato la stanza. Vabbè, che dire, questa è una grande tristezza, guarda, è grande tristezza, grandi problemi per le famiglie che hanno in casa queste povere persone che purtroppo devono utilizzare queste sostanze per poter, secondo loro, diventare magari supereroi, superuomini, superdonni. Non lo so, non lo so che io non ho mai provato in vita mia assolutamente niente. Forse mezzo bicicletta di vino e non più. Quindi non capisco come si possa arrivare a cercare certi paradisi. Per cosa? Però, guarda, il problema qui come si risolve? Tu hai detto l'altra volta che magari il Comune faccia un bando per... E lo stegna qualche associazione, che ce n'è tanto bisogno, così almeno lotteranno come lo devono tenere e evitano che questa gente venga qui a farsi del danno a se stessa e a fare del danno anche alle case pubbliche. Quindi da una parte questo, dall'altra Forza dell'Ordine che in queste settimane hanno fatto diverse retate in zona Campo di Marte, Saione, Alpionta. Bisogna però che, ecco, magari sì, e probabilmente già lo faranno, comunque che penso che se fanno un appostamento qui io credo che trovano. Sicuramente sì. Non basta solo quello perché lo fai una volta e tanto ci ritornano. Il problema qui può andare all'altra parte e così via. Il problema va estirpato, come hai detto tu. Esatto, va estirpato anche nelle scuole, nelle famiglie, che si parli di questo problema affinché i ragazzi non ci cadano. Anche perché, insomma... Non posso tanto parlare oggi, perché mi fa male la bocca. Ti fa male i denti. Eh sì, dai. Mi dispiace. Quest'anno, guarda, il 2016, proprio se stile, proprio Portaiella. E dal 5 gennaio che sono iniziati problemi e ancora non finiscono. Vabbè, forse sarà che invece, o che pensi? Poi gliele mandano, gliele tirano, chissà. Ora no, dai, ora no. Una volta forse sì, ora no. Ora no, c'è rimasto qualcuno dell'ATAM e basta, dai. C'era quelli dell'ATAM che gli... Qualcuno c'è rimasto ancora. Però penso che ora no. E ora sicuramente è fatto che, anagraficamente, inizia ad essere nato un po' troppo presto. E quindi, di conseguenza, i problemi iniziano a riferire. Si riguardi perché ci serve ancora. Va bene, va bene. Farò bene meglio per mantenere. Tanto bisogna arrivare all'estate. Vabbè. Poi se ne riparano. E basta. Per ora, poi dopo se ne riparano. Vabbè. Tanto pensiamo... Non ci tocchiamo perché non... Meglio l'uovo oggi. Sì, va bene. Comunque, la giunta Ghinelli si è rappresentata, giustamente, tra le varie cose sul tema della sicurezza. Ha fatto, giustamente, ha usato anche questo argomento come campagna elettorale. Su altre cose ha fatto bene. Anche la manutenzione, mi pare, insomma, su certe cose è intervenuta bene. Ecco, avere questo edificio nel quale gli arezzo bisogna che qui ci si metta mano abbastanza velocemente. Nel luogo dove sono tutti gli edifici pubblici della amministrazione comunale. Tra l'altro, uno scempio, davanti all'ufficio unico, allo sportello unico e dove ci sono, vedete, insomma, è il parcheggio più comodo che c'è ad Arezzo. Va bene, noi torneremo a vedere cosa succede. Sorveglieremo. Sorveglieremo, come al solito. Ci vediamo domani. Ciao.